Non so, che ti dobbiamo dire? Beh, è arrivato questo giorno che tanto attettavi finalmente, non lo so, forse l'unica sfortuna nella tua vita è proprio di avere un'ultima comune di oggi, cioè vado a pensare qua a te una ragazza splendida, speciale, meravigliosa, non so, ti voglio troppo fretta, ma non è bellissima, ho qualcosa di più speciale, e adesso c'è la mia cucina E' bellissima, ho qualcosa di più speciale, e adesso c'è la mia cucina E' bellissima, che ci vanno a fare un spazzino, no, non è vero, non è vero, è subito E' bellissima, che mi è passato tutto io, ah, io non ho più Ma tu, per la mattina che c'era un pochino costante, un pochino, un pochino, un pochino, un pochino E che la cava tanto Ma che mi ha detto? Ma non fa niente, se non mi dà niente, ma basta che mi dà quella normale Sì, ma basta che mi dà niente, se non mi dà niente, la bofeste E' bellissima, che mi ha detto? Grazie a tutti.